Ha destato molto clamore la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto Lorenzo Diana, per anni considerato un paladino della legalità, si parla di concorso esterno in associazione camorristica, lei ha militato con lui, ha fatto con lui tante battaglie, come ha preso questa notizia? Con avarizia e incredulità, io con Lorenzo abbiamo fatto battaglie insieme, correndo Rischi insieme negli anni 80 quando non c'era nessun altro che facesse la campagna e la lotta all'equità organizzata, io nel consiglio comunale di Casa di Vincio, lui nel consiglio comunale di San Cipriano, poi l'abbiamo fatta nel partito comunista a livello provinciale, quando lui è stato segretario provinciale, lo abbiamo continuato a fare nel corso degli anni. Negli ultimi tempi i nostri percorsi si sono in qualche modo anche allontanati per vari motivi, anche di tipo logistico, lui ha fatto un percorso politico a livello di istituzione più alto, io sono rimasto qui. Però io non posso non ricordare e non dare atto dell'attività forte di contraste che sono aprite in quegli anni. Cosa è avvenuto negli ultimi tempi, cosa dicono queste inchieste? Mi lascio di ammerizia e un po' di vuoto, sono incredulo, non lo so. Il sindaco però sono accuse pesanti, sembrerebbero supportate pure da dichiarazioni di pentiti che hanno fatto parte, tipo gli uomini della cupola dei Casalesi, quindi la situazione sembra almeno per adesso, siamo in una fase delle indagini piuttosto pesante. Sì, appunto siamo adesso in una fase delle indagini, in una fase iniziale e ripeto io non riesco in qualche modo, sarà un fatto psicologico, sarà un fatto emotivo, ma non riesco in qualche modo come sia ad aderire completamente e pienamente a questa serie di accuse. Non nego anche la possibilità che ci possono essere, come ormai la storia ci ha dimostrato in molte occasioni, ma io ripeto sono fortemente legato a quell'immagine, a quell'idea, a quella storia di un passato che non è neanche poi tanto lontana da noi. Se ci sono delle verità, oltre all'ammerizia ci sarà una forte delusione, se ci sono delle verità ci sarà una sensazione di tradimento anche, ma attualmente il sentimento, non la ragione, ma il sentimento è quello dell'ingredibilità. Senti, le posso porre una domanda provocatoria. In altri casi, quando si tratta di personaggi politici con letti bianchi, lei, il suo mondo, il mondo dell'antica murra, è sempre netto nel prendere posizione a favore delle indagini e della magistratura. Lei in questo caso è più moderato, è più morbido. Insomma, perché? Perché non riteniamo giusta questa posizione? Innanzitutto non ho detto affatto che la magistratura sta sbagliando, la fiducia della magistratura c'è sempre e c'è sempre stata e siamo nella fase iniziale dell'indagine. Io ho detto che dal punto di vista emotivo ed emozionale io non riesco ad aderire ad un atteggiamento di colpevolizzazione, non ci riesco, è un fatto irrazionale, non ci riesco. Proprio perché ho coscienza piena di una storia che c'è stata, che non possiamo negare, che nessuno potrà mai negare. Sono avvenuti dei cambiamenti? Non lo so. Spero di no. Mi auguro di no. Il resto è legato a quella storia, a quel passato, dove tu hai corsi di rischio insieme, hai fatto le battaglie insieme, non si possono buttare al macero così da un giorno all'altro. Aspetto, aspetto, con fiducia della magistratura, aspetto che si arrivano alle conclusioni di tutte queste indagini e voglio sperare, voglio augurarmi che siano negative, e che possa recuperare onore e credibilità Lorenzo. In altri casi, soggetti di altre parti politiche, che sono stati distanti da me, certo non c'era il mio atteggiamento emotivo perché non avevo conoscenza, non avevo, come dire, compartecipazione in battaglie e in anni di lotta, come sono stati con me e Lorenzo e con altri. Non c'era questa compartecipazione, per cui è più facile, più semplice poter dire che la magistratura sta facendo il suo corso, ma mai, mai mi sono permesso di dire che sono colpivoli se non prima c'era la dia. Ho detto facciamo attenzione, ma non ho detto che erano colpevoli.